Sorbello, Borghi cerca la posizione per il tiro, un cross, la girata di Sorbello va a liberare il Messina, poi un tiro fuori bersaglio di Garzieri. Bellopede serve Schillaci, il tiro di Catalano, il pallone che se ne va a due metri alla destra della porta difesa da Onorati. Catalano, 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 il cross di Catalano, l'uscita a volo bellissima del portiere Onorati, mentre Mossini si lamenta per essere stato trattenuto. De Simone, colpo di testa di Rossi che va a liberare, cerca il tiro, gol, gol del Catania al quarantesimo. Gol di Allievi. Il gol per Schillaci che va a controllarlo sul Canuti, entra in aria, Schillaci va a terra sul pallo di Canuti, non c'è rigore, lo reclama Schillaci e viene in avanti ora il Catania con Sorbello sulla fascia destra. Pallone che spiove in zona d'aria, Petitti che mette dentro, attenzione, Mossini può arrivare, palla sul fondo. Per un soffio questo pallone non va in gol e calcio d'angolo. Pallone in aria per Catalano, Catalano cerca il cross e un pallone che colpisce l'esterno del palo alla destra di Onorati. Palo del Messina. Sul calcio di punizione si inserisce Venditelli sulla destra, tenta il cross e sul secondo palo arriva a smanacciare Onorati il portiere del Catania e manda in pallo laterale. Schillaci, su di lui c'è Polenta, entra in aria Schillaci, se ne va in dribbling, attenzione, c'è il portiere e pallone che va sul fondo. Calcio d'angolo. Schillaci, un pallone in aria, a terra un giocatore del Messina, Catalano, che si rialza. Cerca il servizio per Schillaci, in aria Schillaci. A terra Schillaci. E si impadronizza. Da Gobbo per Catalano. In aria Catalano, cerca spazio per il tiro, va a terra l'arbitro, non dà il rigore. Mentre piove un altro oggetto. La marca Canuti, servito, Orati, quindi Gobbo, pallone che spiove in aria, attenzione, a terra! A terra, a terra del rosso. Non c'è il rigore, il Catania può andare in avanti. Pallone lungo in aria direttamente, intervento di un difensore, arriva Venditelli in aria. Il cross, la parata del portiere e poi il pallone che non entra in gol. C'è una mischia gigante. Sembra quasi il destino che tiene questo pallone sui piedi di Schillaci. Napoli. Schillaci. In aria Schillaci, effetto un tiro, a terra il portiere. Para, a Schillaci, una serie di dribbling di serpentini. Catalano, Catalano è il pallone che non viene toccato, viene deviato da un difensore. 0-1, vince il Catania 1-0 al Celeste. Gol di allievi al quarantesimo del primo tempo. Catalano. E Venditelli a fianco a lui. Catalano, pallone che spiove in aria, colpo di testa, pallone, gol! 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 Pareggia il Messina ancora con Nicola Napoli. C'è una gazzara sotto la zona di porta. Guardate come si muovono i giocatori. Guardate come si muovono i giocatori. Guardate come si muovono i giocatori. Grazie a tutti.